Musica 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 lo so devi andare, lo so. Qua ti ho messo tutto mamma, tutto, otto paio di pantaloni, quattro magliette con le maniche corte, ti ho messo le mutande, due cambi al giorno, la pomanda mamma, come ti fa mamma se la ti arrossi, poi ti ho messo le quattro felpe e poi ti ho messo pure le cannocchie e la maglietta della salute. Vabbè ma io sono andata. Aspetta, dove va? Ehi mamma, vedi, ho fatto una pasta al forno e una parmigiano, mangia le calde mamma, che se non le ammocare, lo scioglie mamma. Allora io vado. No, no, aspetta, le olive, stanno in nocciola mamma, spunti, spunti, nocciola, salta, vabbè un bel sughetto, questa è sempre mamma, la parmelletta mamma, la metti sul pene, che questo ti fa andare da corpo, hai salutato il Robert? Come è, come lo so l'arcos più importante, puoi ascoltare, lascia, lascia mamma. Beh ma, allora, io sto andando. Sì, lo so, lo so mamma. Io vado. Sì, sì. Va, ciao mamma. Aspetta, Antonio, Antonio aspetta, mamma, aspetta. Beh, e il pallone, è il pallone, com'è, puoi giocare con le amichette mamma, sennò che devi stare a fanno mamma. Il boombox della morte è quello che si illumina, vedi mamma, questo ti ha sempre accompagnato la cosina, no, prendi, prendi mamma, non so ma, ancora hai paura. Ancora ti scordi delle tue amiche, no, non devi significare. Oh mamma, che due giorni stare fuori? E che significa che sei deficiente? Due giorni, sono sempre due giorni. E copriti! Beh, perché? Qual è il problema? Le vostre mamma non lo fanno così. Beh, allora, se fanno così le vostre mamma, condividete con le vostre mamma, capite? Fatemi sapere, capite? Mamma, mamma, per persi, non facciamo Ma vedi, ho parlato qua. Beh, non parla qua. Oh, e faccio le vaffangule. Vieni a ballare in foglia, 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 tremulo come una foglia, 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 Tieni la testa alta quando passi vicino alla crew, perché può capitare che si stacchi e venga giù.